Mi chiamo Antonello Manca, ho 61 anni, arrivo dal Ghero. Ho fatto un intervento per avere i denti fissi in 24 ore. Sono venuto alla Boero perché non riuscivo più a masticare, a sorridere, mi vergognavo, mettevo le mani di fronte alla bocca. Durante l'intervento nessun dolore. Il giorno dopo ho ricevuto i denti fissi. Adesso riesco a sorridere, a mangiare, a masticare e mi sento bene. Grazie.